È venuto fino a qua. Lo devi vedere per forza. Sì, ma tu lo vedo. Degli di venire qua. Che cazzo stai dicendo? Ragazzi, noi ci andiamo a fare una bella birra al pabetto di Trevignano. Finiamo la partita prima. Non romperci. La partita è vicina. Non romperci. Eh, mancavano due minuti. Rapido. Eh, gli hanno mandato l'indirizzo?